Giovani amici di Zrogo Time, ben ritrovati! Oggi tocca a Lazio. Prima, sigla. Piccolissime raccomandazioni, iscrivervi al canale, che ci siete, attivate anche la campanellina. In più, seguitemi sui miei social dove ogni giorno posto post a Lazio. La prima squadra nata nella capitale italiana nasce nel 1900 come società odistica, quindi non come squadra di calcio. Infatti vediamo che nel primo logo, dove troviamo chiaramente un elemento fondamentale nella storia della squadra, che è l'Aquila. Poi vi spiegherò perché è presente l'Aquila, su uno scudo che afferra questo nastro con appunto il nome della società. Dopo variati anni, nel 1914, viene cambiato questo logo, dove obiettivamente diventa una specie di timbro. Diventa una forma circolare, rimane presente l'Aquila, viene aggiunta la scritta Roma, nome della città, dove appunto risiede la squadra e rimane la scritta Società Podistica Lazio, sotto a cerchio. Questo fino al 1921, dove un ben più semplice logo per una squadra di calcio viene introdotto. Scudo molto basic, le iniziali della squadra in alto, cambia però il colore azzurro dato alla squadra. Siamo durante l'epoca fascista italiana, dove, come abbiamo visto in alcuni loghi precedenti, la squadra cambia logo appunto per volere del governo. Quindi rimane la forma a scudo, viene introdotto all'interno del disegno un fascio elettorio e la squadra passa da Società Podistica a Società Sportiva Lazio. 1940, nuovamente un nuovo redesign del logo, questa volta diventa rettangolare, se sa perché. Torna l'Aquila potente all'interno del logo, che questa volta però, al posto di tenere un nastro, viene un fascio elettorio. In più, come vediamo, i rettangoli sono divisi equamente in azzurro e bianco, con questa cornice dorata, che rende tutto decisamente più elegante. 1941-1943, un nuovo redesign, sempre a tema fascista, ed è l'introduzione di una nuova forma a scudo un pochettino più particolare. I colori sono identici, il nome viene spostato in alto a metà. Tra le due iniziali di Società Sportiva viene posto il fascio elettorio, così. 1943-1958, un logo abbastanza inusuale per una squadra di calcio, sembra più una medaglietta. Infatti, forma rettangolare, trisce, bianca-azzurre, bianco-celesti, chiamatele come volete. E il nome SS Lazio, al di sopra, su uno sfondo bianco. Caduto il governo fascista, non è più presente il fascio elettorio. 1958-60, un nuovo logo viene introdotto, più simile all'originale, dove vediamo il ritorno dell'Aquila, al di sopra dello scudo. Uno scudo, anche in questo caso, che torna dal passato fondamentalmente. Scritta SS Lazio, tutto questo color dorato che inizia a prendere un pochettino il sopravvento. rimangono comunque i colori della squadra, che non cambieranno mai. Bene, adesso inizia un trittico di loghi veramente inguardabili. 60-61, c'è questo logo dove l'Aquila da regale maestosa diventa una specie di gappianella. Colori uguali, la scritta SS Lazio. 61-62, un nuovo logo, scudetto è anche qua abbastanza semplice. Da una parte c'è l'Aquila con un pallone da calcio, dall'altra sfondo azzurro con un fascio bianco che l'attraversa. E le iniziali della squadra al di sopra. 62-63, sempre uno scudo, questa volta più... Natalazio, soprattutto, rimangono praticamente invariati gli altri elementi al di sotto. 63-73, scudo, questa volta gli elementi che una volta erano separati diventano tutt'uno praticamente, divisi da appunto la fascia bianca con la scritta Lazio appunto che rimane comunque al di sopra. Le 974 viene per la prima volta introdotto un logo che ci è molto familiare, infatti è molto, ma molto simile a quello attuale della squadra capitolina. Quella più grossa dello scudo, che tra l'arraffa, chitta SS Lazio, giusto un pochettino più sotto, con i colori societari. Le 79, non so per quale stranissimo motivo, la società decide di cambiare il logo in questo. che a me sembra un tacchino, tutto arruffato, un peccione, una cosa strana. Cambia la tonalità di blu, di azzurro, che diventa blu. E le iniziali del club che vengono spostate al di fuori di tutto. 1982-87, uno dei loghi più famosi della Lazio, l'Aquila di Benincasa. Rispetto a quella precedente, è decisamente più accattivante e più propensa ad essere effettivamente un logo per una squadra di calcio. Un'aquila stilizzata, scritta Lazio al di sopra e i colori societari che appunto sono contenuti all'interno di questa forma geomedrica. 1987 torna finalmente il logo più classico, appunto tutti gli elementi che c'erano in quello di dieci anni prima, con l'aquila, lo scudo, le scritte, bla bla bla. Per finire, nel 1998 abbiamo quello che è effettivamente il logo attuale della Lazio, che abbiamo già visto in alcuni disegni precedenti. L'aquila dorata che tiene lo scudo, scudo che è bordato di un blu più scuro, che abbiamo già visto, con la scritta SS Lazio e i colori della società in un altro scudetto. Bene? Ora veniamo alle piccole curiosità. La Lazio fu fondata il 9 gennaio del 1900 come società podistica Lazio. Da 15 atleti guidati dal sotto ufficiale dei bersaglieri, Luigi Biggiarelli. Dopo aver esordito con la divisa bianca, la Lazio ai primi del 900 adottò la classica divisa attuale, ovvero bianco celeste, in onore della Grecia. La Lazio è stata la prima squadra italiana di calcio ad essere quotata in borsa. L'aquila è stata scelta come emblema di potenza, vittoria e prosperità, oltre che essere un simbolo delle legioni romane. Signori, io con la storia della Lazio direi che ho finito qua. Come sempre vi ricordo di scrivermi nei commenti qual è il logo della Lazio che preferite di quelli che vi ho portato. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!